E.ON, player internazionale dell'energia, capitale privato, con circa 75.000 dipendenti e 47 milioni di clienti nel mondo, amplia la propria presenza sul territorio italiano, essendosi aggiudicata l'asta competitiva per l'assegnazione del servizio a tutele graduali del mercato elettrico per i clienti residenziali non vulnerabili. L'8-4 tutele graduali, provincia di Monza-Brianza, Lecco, Imperia e Savona. E questo è anche il motivo per il quale abbiamo l'orgoglio di essere qua oggi a Sanremo all'inaugurazione del nostro punto territoriale sportello di vendita e di servizio qua nella città di Sanremo. E l'inaugurazione del nuovo punto E.ON di Sanremo è stata anche l'occasione per presentare la guida pratica dedicata al passaggio al libero mercato energetico, uno strumento predisposto dall'azienda per supportare al meglio i cittadini nel nuovo scenario dell'energia. Per rafforzare il proprio sostegno alla comunità locale, E.ON supporterà in qualità di sponsor per la stagione 2024-2025 la squadra BVC Sanremo Basket e sabato 5 ottobre ha organizzato la sesta edizione del volontariato aziendale Family & Friends con circa 130 persone, tra dipendenti, famiglie, partner e clienti, che si sono trovate a Savona per dare il loro contributo nella tutela dell'ambiente e dell'ecosistema locale, ripulendo dai rifiuti la spiaggia cittadina a prolungamento a mare. Si parla di transizione energetica, cioè passare dalle fonti fossili alle rinnovabili, si parla di transizione digitale, cioè di una digitalizzazione sempre più importante, ma la transizione anche sociodemografica. Per noi è fondamentale stare sul territorio e restituire al territorio. Per questo motivo siamo molto contenti di aver partecipato ad un'iniziativa di volontariato sociale ed aziendale in collaborazione con Lega Ambiente, con la pulizia della spiaggia a Savona questa volta.